ciao a tutti i ragazzi sono x maurix98 e sono qui per farvi vedere la mia amica troppo di in pista il motore ha messo un po di arangene oh ma guarda un po che ho trovato ma questo è l'arangene dovevo mettere uno struttetto così bene ora vi farò vedere beh ormai non sapete com'è effetto di cuscinetti da 9 da 19 mm più di super xx flessidra flessidra roller da 19 nel secondo buco motore vabbè iperdaccio batteria sono scarichissime ragazzi devo dirlo sono scarichissime sentirebbe rumbo a 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 al chiamo a me